E con questo gol salgono a 5 le reti di Federico Grigucci in campionato, il bomber dell'Abra conferma ancora una volta le doti realizzative regalando alla sua squadra il gol del 2-1 a Marciano seguito poi dalla realizzazione di Matassini che chiude i giochi. Finisce 3-1 per l'Ambra che con questo successo sale al primo posto in classifica. Sempre in prima categoria Girone è davvero curioso quanto accade sul campo del Fonte Belverde. L'arbitro assegna un penalty che farà discutere. Dalle immagini infatti si può notare come il portiere dei Biancorossi effettivamente intervenga sul pallone prima ancora che sull'avversario. I padroni di casa assaporano il gol ma l'estremo difensore della terra nuova Traiana ipnotizza il suo avversario e blinda la porta. A termine dei 90 minuti di gioco risulterà decisiva la rete di innocenti che riporta il sorriso e i tre punti a terra nuova. I Biancorossi salgono così a 8 punti ed entrano di diritto in zona playoff.